Buonasera, no, buongiorno, ho già la testa da un'altra parte evidentemente. Bene, io sono un po' alla fine di questo impegno e quindi volevo provare a dire con voi delle cose con un po' di nettezza, prendendome nel rischio. Nel 1975 entrai a fare il maestro in una terza elementare in una periferia povera a sud di Napoli, di una grossa città della zona vesuviana, che era falcidiata da guerre di Camorra. E avevo tre ragazzine che non venivano a scuola. Decisi che faceva parte del mio mandato, d'accordo con il dirigente scolastico, andare a cercarle. E le andai a cercare a casa loro. Due facevano pezzi per corredi, che si appuntavano su vari asciugamani o... E le mamme dissero che dovevano stare lì a lavorare. E dovevo decidere se mandare i carabinieri oppure no. E la terza non aveva questi problemi, era semplicemente triste. Fesci delle ipotesi, delle congetture che si possono fare all'età che avevo allora su perché fosse così triste. E non ne sono mai venuta a capo. La ragazzina triste è una delle due che facevano i pezzi, tornarono a scuola, più o meno riuscirono a prendere la licenza elementare. Fescero presto dei figli e non continuarono gli studi. In quel frangente io ho capito, provenendo da una generazione come alcuni di noi che stiamo qua, che voleva il mondo perfetto, che il mondo non lo era perfetto, e che il nostro prevalente lavoro è quello di ridurre danni nel mondo imperfetto. E che questo lavoro, che riguarda i ragazzini, la scuola o se diventiamo amministratori, l'amministrazione, deve avere un corrispettivo dentro di noi. Non è possibile occuparsi delle ferite di bambini e di ragazzi, delle interruzioni interne, come avete descritto, di bambini e di ragazzi, senza esaminare le nostre interruzioni interne. Un lavoro ulteriore, senza il quale si può essere eroi, si possono fare anche cose gregge, ma è molto difficile fare bene questa battaglia. In questo senso, questa questione della dispersione scolastica cosiddetta, lessico pessimo, che in qualche posto ho criticato, perché è guerresco, c'entra con la guerra la dispersione, ma qua non stiamo nella ritirata dalla Russia, e le persone non sono per nulla disperse, stanno in giro e le conosciamo per nome e cognome. Comunque, questa storia della dispersione scolastica è una grande metafora della possibilità di correggere il nostro Paese nelle sue iniquità. La plastica esemplificazione dell'articolo 3 della Costituzione, che da un lato dice che siamo tutti uguali e poi immediatamente riconosce che non è vero niente, che non lo siamo, e che quindi la Repubblica si incarica di fare quel grande lavoro meticoloso e artigianale, per cui dall'eguaglianza dei diritti si fatica per la riparazione delle diseguaglianze. E' dentro a questo che noi stiamo oggi, come in tante altre occasioni. Non stiamo cercando soluzioni definitive, e non dobbiamo anelare al mondo perfetto, ne dobbiamo, ne possiamo pensare che questa cosa stia fuori di noi e che noi siamo un'altra cosa. In generale, se uno si occupa di sfiga, qualche sfiga dentro di sé ce l'ha. In 25 anni è stato fatto, forse 30, forse se vogliamo andare più dietro dall'inizio dello Stato unitario, e non solo della Repubblica, il sistema Italia ha fatto enormi passi in avanti nella lotta per il successo formativo dei suoi cittadini. Un enorme lavoro è stato fatto. Quando nel 1859 fu fatta la legge Casati, l'80% delle bambine italiane non andavano a scuola e finirono la loro vita senza aver mai imparato a leggere e scrivere. Noi dobbiamo ricordarci dei successi che il nostro Paese ha fatto, in particolare del grande contributo che ha dato la Repubblica italiana. e però poi dobbiamo affrontare i problemi che abbiamo. Cabina di regia. Abbiamo portato in un posto per soli sei mesi una quantità impressionante di evidenze, statistiche che ci servivano per l'analisi della situazione concreta dell'insieme del Paese, molto, molto differenziata. Ne abbiamo avuto un assaggio nelle relazioni di stamattina, non mi ci soffermo. E anche per, lasciatemelo dire in maniera provocatoria, le ricette. Cosa si fa per? Non ci dobbiamo offendere che siano delle ricette. Le ricette servono. Sono il condensato di decenni di lavoro, delle scuole, del privato sociale, dei centri sportivi, delle parrocchie, del volontariato, di ogni angolo d'Italia. Siamo andati in giro. Abbiamo chiesto a Lanci di mettere a disposizione tutte le loro documentazioni, alla Regione di mettere a disposizione tutte le loro documentazioni. Abbiamo mobilitato l'Istat, oltre che l'ufficio statistico del Ministero. Abbiamo fatto una forte collaborazione con le grandi agenzie private, in primo luogo Save the Children, che si occupano di questa cosa. Abbiamo fatto il punto della letteratura, anche europea e internazionale, in merito. E poi abbiamo deciso di scrivere un testo semplice, un testo che una maestra o un maestro di scuola primaria possa leggere, su cui possa lavorare, soprattutto con i propri colleghi, che un professore o una professoressa delle medie o delle superiori o della formazione professionale possa utilizzare per inquadrare dentro una geografia una storia più grande la fatica che sta facendo. Si chiama una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa. Ero venuto qui con le slide per illustrarvelo. Ho pensato che era un modo per trattarvi da cretini. e non mi sembrava il caso. Siete colleghi e colleghi, ve l'andate a vedere, vedete che c'è scritto, sono sicuro che troverete molte delle cose che con grande utilità già state facendo, altre forse no e altre ne potreste aggiungere. è un normale punto della situazione. È rassicurante che ce l'abbiamo, non sono affatto sicuro che lo useremo istituzionalmente. Sono un normale cittadino italiano e mi riservo di avere i miei dubbi. vi posso dire, diciamo, conoscendo un po' le esperienze che voi portate qui e che porterete anche oggi pomeriggio, che per quello che vale, quello che vi dico io, stiamo, state lavorando bene. Ho sentito adesso anche l'assessore, è quella la direzione. È faticosa, è un lavoro artigianale, imperfetto, ma è quella la direzione. Forse, in aggiunta, voglio aggiungere che dovremmo ricostruire, ricostruire perché in una stagione 15 anni fa c'è stato questo, ricostruire la rete italiana della seconda opportunità. Decidere che una città si assume il compito, il piccolo onere economico, di mantenere in piedi una rete per cui la gente che si occupa di queste cose nei diversi angoli del Paese, in maniere diverse, ma dentro un quadro che, ripeto, è stato anche codificato istituzionalmente, lo era già stato in parte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla dispersione scolastica, che ha prodotto un tomo molto ricco e buono, e poi da questo documento ufficiale di indirizzo che è stato mandato a tutte le regioni, a Lanci, ai parlamentari, ai membri del governo, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un quadro dentro il quale si può riprendere in maniera ordinaria una battaglia che di lungo, non è una battaglia, ma è un'attività di lungo periodo che, ripeto, entra nel solco di una battaglia antica, risorgimentale, che poi è diventata della Repubblica. È bene mettere le cose nel loro giusto senso, anche storico, perché altrimenti sembra sempre che va tutto male, che non si è fatto mai niente, che fa tutto schifo, è solo faticoso e nella fatica ci sono anche le sconfitte. Detto questo, io sono, proprio perché è faticoso, ci sono anche delle sconfitte, molto preoccupato, perché le questioni di contesto stanno leggermente peggiorando. abbiamo riconquistato solo 3 dei 7,4 miliardi persi alla scuola nel 2009 e li abbiamo investiti per immettere in ruolo i nostri colleghi e le nostre colleghe precari per l'85%. Non vedo all'orizzonte la possibilità di recuperare gli altri 4 miliardi, e quindi abbiamo pochi soldi. I dispersi si sono diminuiti, chiamiamoli sempre così anche se non mi piace. Dieci anni fa erano il 20,8%, adesso sono più o meno il 13,8%, ma stanno sempre nello stesso posto e vengono sempre dalla stessa classe sociale. sono sempre figli di poveri e poveri di istruzioni, di periferie come avete sentito oggi e di quartieri difficili di questo nostro paese. Non si disperdono i ricchi, si disperdono i poveri in Italia. E quindi rimane il monito di Don Milani che il principale problema della scuola italiana sono i ragazzi che perdono. le diseguaglianze in generale in tutto il mondo sono in aumento e anche in Italia. Le diseguaglianze reali e quelle percepite. Le diseguaglianze economiche e quelle legate alla possibilità di accedere al credito, di fruire di servizi e a fronte di questo abbiamo una scuola ancora troppo rigida, troppo autoreferenziale in difesa di se stessa. Lo dico senza criticare niente per quanto riguarda la vita delle persone. Io stesso sono stato in un sistema rigido e l'ho perpetuato finalmente vado in pensione dopo 44 anni in cui l'ho perpetuato il sistema rigido. Quindi non ce la posso avere con le persone. Ma è più centrato ancora oggi su chi insegna piuttosto che su chi impara. Questo non significa che non si dà da fare per chi impara. Si dà tantissimo da fare. Ma come sistema è un sistema anche nel paragone internazionale rigido. quindi più diseguaglianze più poveri sono due milioni i bambini e i ragazzi sotto la soglia di povertà relativa sono un milione e cinquantamila i ragazzi sotto la soglia di povertà assoluta i ghetti urbani sono una realtà soprattutto del mezzogiorno ma anche del centro e del nord. E poi si stanno affacciando sulla scena nuovi mostri il cui significato non riusciamo a reperire. Negli ultimi tre mesi mi sono occupato di baby gang vengono così definiti dalla nostra meravigliosa stampa ho rifiutato di andare a parlarne in televisione visto come si continuano ad utilizzare le parole riferite alle persone in crescita in particolare sui nostri meravigliosi media. Insomma me ne sono occupato per trent'anni ma non riesco a capire chi siano e cosa stiano facendo. Metto in fila delle evidenze per lo più sono della parte più marginale della parte più marginale della parte più marginale di un quartiere marginale ma non solo e non sempre credevo di aver capito tre anni fa quando muniti di armi ed armi automatiche giravano per la zona orientale della mia città sparando intercettando persone perché poi il tutto venne ricondotto ad un controllo camorristico zonale dovuto al fatto anche che avevamo messo nelle patrie galere una gran quantità di boss che non controllavano più la situazione e ci rassicurammo tutti quanti. Sono passati due anni e ci sono dei ragazzini che nelle ore della sera e della notte si mettono su dei motorini e vanno girando in cerca d'avventura. Alle volte senza niente alle volte si portano delle catene dei martelli non riusciamo a capire se usano stupefacenti ogni volta hanno bisogno di avventura hanno bisogno di identità alcune di queste bande si tatuano un nome sulla mano deciso insieme interrogato uno di questi bambini ha detto siamo una banda nessuno obbedisce nessuno comanda fatto si è che hanno ammazzato un metronotte cinque giorni fa sei giorni fa è morto non sono in grado di dire se l'hanno fatto per un motivo o per l'altro si gli ruba la pistola poi non la trova la pistola ecco faremmo un errore gravissimo a pensare che è solo una questione meridionale che è solo una questione delle periferie di Napoli e che si può ricondurre facilmente a qualcosa che già sappiamo e più ci siamo occupati di queste cose e più dobbiamo essere umili cose analoghe sono successe a Dusseldorf nella periferia di Chicago nelle metropoli dell'Africa e dell'America Latina i paradigmi educativi stanno saltando in tutto il mondo dunque come riprendiamo la strada tenendo gli occhi aperti sulle manifestazioni terribili sull'ordinaria amministrazione dell'educare nella difficoltà di tenere tutti dentro e anche sulle promesse positive e concludo su questo io penso che noi sappiamo che alcune grandi questioni di indirizzo generali sull'educare funzionano perché lo proviamo ogni volta ed è su questo che i decisori pubblici il dibattito pubblico e noi che operiamo dobbiamo saperci concentrare limitando in maniera testarda costante consapevole i danni delle rigidità del sistema di istruzione e di educazione che pur consapevole nel suo insieme ne facciamo anche qui tutti parte non riescono a tenere la barra dritta sulle cose che noi sappiamo che già funzionano e molto sinteticamente mi scuserete per la semplificazione queste cose sono le seguenti primo più si è in situazione di marginalità più ci vogliono interventi precocissimi con le mamme e con i papà specie se sono poveri se sono giovani se sono mamme sole significa che ci vuole supporto al genitore di riferimento di quel bambino e di quel ragazzino quando ha uno due tre anni prima della scuola di infanzia ci vuole poi una scuola di infanzia di qualità che stenda il suo mandato al supporto alla genitorialità che insegna ai genitori come si tiene il tempo in una casa come si legge una favola al proprio figlio come si dà da mangiare come si dice no secondo ci vuole un patto tra scuola e famiglie bisogna ristabilire in maniera esplicita il patto implicito che da molti lustri è saltata un lavoro a se stante non previsto dal contratto nazionale scuola c'è da tempo una marea di sperimentazioni in questo senso di sistemi di pattuizione consapevole di lavoro insieme ne dobbiamo fare l'ordinaria amministrazione tre la scuola primaria oltre a essere inclusiva già lo è riconosciuto da tutti è la più inclusiva del mondo la scuola primaria italiana e ha anche buoni risultati mi ha molto colpito positivamente che le competenze nella lettura dei nostri bambini di quarta primaria in un recente survey dell'Ocse si mostra essere tra i più alti del mondo il problema è che poi crolla da lì alla terza media e ci dovremo tutti chiedere il perché ma in generale dobbiamo garantire una rigorosa alfabetizzazione precoce deve essere una scuola non solo accogliente ma rigorosa bisogna farle veramente le cose che stanno nelle indicazioni nazionali e bisogna avere il tempo per quelli che sono rimasti indietro per assicurargli i livelli che sono lì descritti in maniera certamente non assoluta ma molto estesa perché vedete si deve poter ricadere su qualcosa quando ci si perde lungo i tracciati che sono stati descritti è una cosa su cui si può ricadere e saper leggere scrivere far di conto la differenza di classe sta nel fatto che il pubblico garantisce questo per i poveri mentre i ricchi in qualche modo se la sfangheranno quarto soprattutto in adolescenza è stato citato Pietro Polli Charmé non si può continuare a pensare a credere che questi ragazzini stiano dentro gli assetti della scuola tradizionale e imparino per davvero non è così non è così non funziona più non ve la sto a descrivere la sapete meglio di me ci vogliono delle forti avventure pedagogiche di tipo laboratoriale che mettano insieme mani e menti che possano svilupparsi proprio perché abbiamo assicurato nella scuola primaria fino alla prima media adesso abbiamo tutti istituti comprensivi una fortissima rigorosa competenza di base prima della preadolescenza e dell'adolescenza il simbolico operativo il teorico pratico devono stare dentro ad avventure esplorative di forte valenza simbolica comunitaria il tutto deve avvenire dentro una scuola comunitaria ecco l'altro punto il sistema di patti e questa possibilità più figure devono stare dentro a questa scuola comunitaria non solo insegnanti ma educatori ed insegnanti che su piede di parità lavorano insieme altrimenti non possiamo operare veramente in adolescenza dentro la grande crisi educativa del nostro paese e dentro a questa scuola comunitaria qualcuno l'ha detto bisogna cedere potere e responsabilità ai ragazzi bisogna dargli quel potere nel patto con le famiglie bisogna uscire dal paradigma italiano dell'iperprotezione bisogna dare loro responsabilità promuoverne le facoltà e le possibilità questo sappiamo che funziona e ogni volta che lo vediamo all'opera troviamo grandi risultati e promesse ci vogliono guide adulte competenti anche discrete durante tutta l'adolescenza e l'apprendimento deve può avvenire ancora tra fuori e dentro scuola in maniera molto più marcata che in passato molto più marcata bisogna stare molto fuori dalla scuola in adolescenza soprattutto alle superiori e tornare a scuola come luogo del rigore e della sistemazione dell'apprendimento diffuso che si concludono con riti di passaggio che sono anche prove d'opera dove le materie e le aree di cerniera tra le discipline siano esaminate da gruppi di ragazzi che lavorano con rigore in questo modo il dibattito pubblico sulla scuola italiana non tiene conto di queste cose che pure noi tutti sappiamo e alcuni lo sanno da decenni che sono le uniche che possono funzionare e rispondere al compito dunque abbiamo un compito politico non partitico non quella roba di porta a porta abbiamo il compito di portare queste evidenze nel dibattito pubblico con più forza di prima senza eccessi di pessimismo e con consapevolezza delle difficoltà ma anche delle grandi risorse di cui siamo tutti portatori grazie